Ieri si è concluso il calcio mercato, due acquisti, c'è uno perché l'altro è rientrato, parliamo di Matteo Gabba, è rientrato dal prestito anticipato al Villareal, l'acquisto che il Milano ha fatto è stato Filippo Teracciano dall'Ellas Verona. Le cessioni sono tante 4, Crunic, Lucas Romero, Ciacatro Re e Pellegrino, Crunic a titolo definitivo, gli altri tutti in prestito, Pellegrino e Luca Romero prestito a secco, quindi a giugno rientreranno al Milan, per Ciacatro Re c'è questo diritto di riscatto da parte del Palermo di 10 milioni che se è esercitato a fine stagione, in pratica il calciatore non sarà più di proprietà del Milan. Ora c'è da cominciare a parlare con i calciatori che hanno il contratto in scarenza, quindi rinnovare quei contratti che sono spinosi e ce ne sono alcuni importanti come quello di Magnan e di Teo Hernandez, calciatori che vanno trattenuti al Milan. Se si vuole avere ambizioni di vittoria non puoi privarti dei migliori nella Rosa, altrimenti difficilmente questo Milan nel breve termine potrà tornare a vincere qualcosa, difficilmente se ti privi dei migliori calciatori. Le notizie ovviamente, Magnan vuole restare al Milan come anche Teo Hernandez, va adeguato l'ingaggio, il portiere francese percepisce 3,8 milioni barra 4 al momento di stipendio, che è lo stesso da quando è stato ingaggiato da Lille, non è mai cambiato e lui vorrebbe un adeguamento sui 7-8 milioni. Notizia di oggi, ma non è una notizia di oggi e diciamo già da qualche mese, che il Bayern Monaco è molto interessato a Magnan e quindi c'è anche da fronteggiare questo problema, perché le richieste per i calciatori ci sono, sia per Magnan che per Teo Hernandez come per altri calciatori della Rosa Rossonina, quindi bisogna blindarli, rinnovare il contratto perché sono calciatori fondamentali per questo Milan e tenerli nella Rosa Rossonina se si vuole puntare ad essere ambiziosi e quindi a tornare a vincere nel breve termine. Ovviamente il tempo c'è perché i contratti non scadono in questo giugno 2024, però bisogna iniziare subito a bloccare, rinnovare i calciatori importanti della Rosa, per puntare a vincere nel breve termine. Questo deve essere l'obiettivo del Milan, ma soprattutto di una squadra, di una grande squadra che deve tornare a vincere, quindi quello che poi oltretutto i tifosi si aspettano, perché i tifosi si aspettano un Milan vincente, un grande Milan, che sia competitivo sia in Italia che all'estero. Non puoi farlo privandoti dei migliori calciatori, quindi i rinnovi di Magnana e Tornandez sono fondamentali e bisogna iniziare subito a parlare con i calciatori, con il loro entourage e rinnovare i loro contratti. Sempre Forza Milan!